A Misano va in scena un match tra due belle realtà di questo torneo. La presentazione è giusta, ma quello che si vede in campo è uno spettacolo deludente. Gatteo deve passare ancora la sbogna delle feste natalizie. La vis Misano fa qualcosa in più, ma spreca tantissimo. Con le immagini a cura di Eugenio Angeli, passiamo all'analisi del match. Da una punizione di Serafini, Castagnoli è costretto a chiudere su Benedetti, lanciato a rete. Lo stesso Benedetti, servito attivamente da Muccioli, spreca così. Bravissimo Castagnoli nella risposta. Sulla ribattuta Serafini recupera la sfera, ma non inquadra il bersaglio. Ancora Serafini il protagonista, ma tre giocatori di Misano, liberi di colpire, vengono fermati da un fuorigioco. Molto contestato, probabile la posizione di offside ad opera del numero 9 di casa. Mentre Benedetti riesce a calciare poco dopo, ma lo fa malamente. Nella ripresa Serafini pennella per il neoentrato Rodriguez, che di testa mette alto. L'occasione più limpida, poco dopo capita a Muccioli. Spettacolare la volete numero 7, altrettanta splendida, la parata di Castagnoli. È la volta di Serafini che ha la grande chance per bucare la porta dei Gatteo. Castagnoli è monumentale. Infine Russo, con un affondo, spaventa così la porta dell'estremo ospite. Ma la gara termina qui. Come detto, il Misano fa la partita, ma spreca le poche occasioni avute. Il Gatteo, Sorgnone, zitto zitto raccoglie un punto, muovendo la classifica.